Un caloroso buongiorno a tutti, purtroppo c'è ancora un po' di influenza, però ieri ho fatto quello che avevo promesso, l'ho fatto stamattina, sono andato dal veterinario di domenica perché è aperto proprio per me. Mi ha detto che ci avrei avuto questo problema alla voce proprio ora così e che poi dopo forse mi tornava normale. Non ho sentito niente perché mi ha detto che c'era poco da levare e quindi ci ha messo due secondi proprio. Il veterinario è stato veramente bravo. Quindi buongiorno a tutti voi che vi siete preoccupati per me, le scommesse vanno pagate, il cinema italiano ha vinto con il Sacro Gra, quindi questo film documentario, insomma, sono contento. Io dicevo che, volevo dire che non è che non avevo fiducia nel cinema italiano, non avevo fiducia nella mostra di Venezia che fa vincere sempre dei film iraniani, cinesi, lapponi e invece quest'anno, insomma, ha dato lustro al cinema italiano. Benissimo. Oggi se vince la Ferrari, come ho già promesso, mi taglierò ciò che resta del giorno. Un buongiorno a tutti voi, buona domenica. Eh vabbè, che vuoi fare?